Amici di Music Off, siamo allo stand della FBT in compagnia di Gianluca Cesari che ci mostrerà rapidamente quali sono alcune delle novità portate a questa musica 2019 appunto dal marchio FBT. Grazie, grazie mille. Allora abbiamo delle novità importanti rappresentate dalla nuova linea di rullanti i Madre Natura, utilizzano una tecnica costruttiva diversa rispetto all'usuale che è un multistrato, questi in realtà praticamente vengono realizzati con una tecnica del lungovena quindi si ottiene una struttura simile al massello. Abbiamo un olivash, questo, abbiamo una betulla, un mogano e un bog oak un prezzo orientativo di vendita all'utente finale, stiamo parlando di 499 come prezzo suggerito di vendita, sono veramente molto molto interessanti quasi dei custom praticamente sono sicuramente dei custom, diciamo che si differenziano rispetto alla linea Rebel Custom che è quella tipica di DS perché in questo caso non c'è il multistrato non ci sono la stratificazione dei fogli fondamentalmente ma c'è una sorta di massello, la tecnica è un lungovena, viene realizzato con un lungovena quindi sono delle novità presentate al musica di quest'anno poi chiaramente abbiamo la nostra linea di rullanti in metallo questa che va molto, sono praticamente i nostri best seller quindi abbiamo l'ottone, l'alluminio e poi lo stile e poi chiaramente un piccolo campionario dei rullanti Rebel Custom Shop chiaramente lì sulla Rebel Custom Shop c'è una scelta infinita a partire dalle finiture, a partire dai colori quindi veramente è una scelta dimensioni ovviamente certo, è un vestito su misura chiaramente si va sul nostro sito DSDram, si va sulla sezione configuratore e si realizza il proprio custom in maniera anche molto molto semplice e veloce il configuratore è veramente molto performante qui abbiamo un esempio di batteria Rebel Custom Shop in questo caso il materiale è un all maple quindi tutta acelo una finitura solid satin colorazione grey pine chiaramente anche in questo caso le misure possono essere scelte certo, dall'utente finale altro esempio di Rebel portata in questa fiera e questo kit lo stesso all maple in questo caso abbiamo una finitura VBS che è un porro aperto uno snow white e poi abbiamo i due kit che abbiamo montato per l'esibizione in qualche modo live esatto, esibizione live degli endorsero anche di chi in qualche modo è di passaggio vuole provare l'ebbrezza DS esattamente abbiamo questa finitura Rusty quindi ruggine molto molto particolare questa è realizzata in una finitura mogano acero e per finire l'altra invece è una piccola jazz una jazzettina tutta mogano con una finitura surf d'aco chiaramente questo è solamente un piccolo campionario ovviamente della scelta vastissima che si può avere possiamo rimandare al sito ovviamente per avere un'idea un po' più compiuta delle possibilità di scelta e da sempre distribuite un brand importantissimo anche per i piatti che è Sabian Sì, siamo veramente molto orgogliosi di essere distributori in Italia di questo brand prestigioso Sabian Novità importanti sono rappresentate quest'anno dalla nuova linea di AX e di HHX a brevissimo avremo proprio disponibili nuovi HHX complex sono delle novità assolute disponibilissimi da qui a qualche settimana quindi saranno pronti proprio per essere immessi sul nostro mercato ultima novità ormai da qualche mese presente sul nostro mercato è rappresentata dagli FRX che troviamo montati lì sul kit Jets gli FRX sono rappresentati una lega B20 quindi professionali ma hanno la caratteristica di avere un taglio delle frequenze alte quindi possono essere utilizzati e sono sicuramente utilizzati in ambienti chiusi, piccoli dove non c'è la necessità di un suono esplosivo comunque dai volumi altissimi appunto perché vanno a tagliare queste frequenze alte e ci consentono quindi di avere un suono da un punto di vista di volume abbastanza livellato posso chiederti che tipo di risposta avete avuto e dai batteristi e magari dai gestori dei locali per un prodotto del genere c'è stato qualche feedback particolare? Grande qualità hanno apprezzato la grandissima qualità del prodotto e come tutti i prodotti nuovi vanno comunque veicolati hanno la necessità in qualche modo di un po' di tempo per essere apprezzati maggiormente insomma questo capita tipicamente quando ci sono comunque delle novità anche concettuali strutturali ecco questo capita spessissimo bene Gianluca grazie per la disponibilità anche perché appunto sei un po' costipato quindi ti ringraziamo tantissimo dallo stand dell'FBT è tutto amici music off a prestissimo grazie mille alla prossima grazie